Dici davvero? Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Io lo farò presente. Attenzione, i cittadini devono sempre portare con te i piccoli destina. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare, Dino. Andiamo. Giù, attende. Ok, ok, diamolo. Ho detto a terra. Non ho fatto niente. Mani sulla terra. Fallo. Scansionali. Pare che ci siano sempre più in realtà. Questo significa che la gente può uscire. Quale è, Mark? Lo sai, l'hanno preso mentre usava delle schede razione false. Kristen, cosa andiamo a fare? Trucche dici. L'hanno pestato a sangue e l'hanno portato a me. Ho recuperato dei nuovi documenti. Non avremo problemi. Basta restare calmo. Bene, la seguite pure. Cosa fa? Un giorno libero. Visita un amico. Bene. Passate. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Prendiamo la tracciatura. I nostri zaini sono rimasti qui. Le munizioni in scarsetta. Beh, usiamole bene. Bene, Texas. Sollevano. Sei pronto? Sì, signora. Dai! Fa attenzione. Come sempre. È una domanda a trabocchetto? È una domanda a trabocchetto? Dov'è la scala? Dov'è la scala? Dov'è essere qui, in zona. Trovata. Portala qui. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona? Si fa per dire. Di qua. Giù, di qua. Giù, di qua. Giù, di qua. Giù. 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 Giù è. Grazie. Grazie. Sì, arriva sempre con qualcosa. Dovrebbe tenerci occupati per un po'. Fermo. Spori. Ma dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa' attenzione. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Voglio tenere occhi e orecchie aperti. Dovremmo passare da qui. Merda. Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi. Attenzione. Da questa parte. Piano. Cristo. Occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non... non lasciate che mi trasformi. Mi prego. Che vuoi fare? Andiamo. Di l'al vulo. Hiro. L'al vulo. Ciao. Ciao. Senti. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Bene. Non ce ne sono altri. Sì. Sì. Torniamo in città. Torniamo. Un po' d'aria fresca... è l'unica cosa che mi piace. Odio la buzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero seduti, sarebbe una buona idea. Di qua. Copri l'entrata. Ci penso io. Merda. Lasci caduta. Sei gentile, fai tu. La prendo io. Qui, passamela. È pesante. Credo di potercela fare. Ok. Ecco fatto. Sali, culo pesante. Muoviti. Sei autoritaria. Ci avviciniamo. Sali. 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 Chiudì. Ready le munizioni, ci serviranno. Chiudì. Hei piccoletto, il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? ci sta aspettando renderà tutto più interessante andiamo forza ehi tess e bellezza come oggi non adesso non se non avete le scade razione non fatemi perdere tempo non mi interessa barattare coi proiettili sbrigati moriamo di fame tranquilli la roba arriva subito non provare a saltare la fila bene da un pezzo aspettavo se tocchi compri test quanto tempo non ci vieni più a trovare e chi è questo chi è cose vecchie lasciamo perdere e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Ci siamo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori. Altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca droga! Ti copro. Trova il punto migliore. Questo è sì che ce la faglio. No. Questo è sì che ce la faglio. Ti è morto, stronzo! Ben fatto, Texas. Anche tu? Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo a scrivere il segno in bianco. Mettiamo fino a tutto questo. Ehi, te la cazzo. Ok, bene. Dammi la mano. Ecco fatto. Ok. Di qua, Joel. Altri della banda di Robert. Merda. Come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Porta, porta. Porta. Volevo dirtelo. Errori Jordan 3. Sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo. Ascorta, bello. Guardiamo in giro. Guardiamo in giro. Guardiamo in giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È troppo paranoico per restare solo. Dannazione! Oh merda! Porca merda! Porca merda! Oh merda! Voi dividetevi! Dove sei pezzo di merda? Oh merda! 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 Tieni, sistema quella ferita. Grazie mille. Avremmo dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Forza, il mo' di... Forza, il mo' di qua. Andiamo. Andiamo. Andiamo! No, no, no. Ecco il nostro uomo. Glorioso figlio di puttana. Facciamola finita. Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud, merda. Non so che ci sia ancora lì che ci può vendere della merce. Credo... credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi incarichi. Fa' il culo, Robert. E anche se forse che cosa gli abbierebbe... Usiamo la testa. Sono in tanti. E' immischiato in affari loschi con mezza città. Calma. Con calma, amico. Ehi, gira sotto. Prendetelo! Grazie. Chiara! 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 Sei morto, basta! Dividetevi! Il Romero... ... Allora ecco. Barca! Sì! No, no, no. L'ufficio. Robert deve essere lì. Andiamo. Vai via! Stai indietro, c***o! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, strozzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert! Joel, di qua! Forza, è entrato qui! Joel, di qua! L'avevamo quasi preso! Che fai? Ciao, Robert. Tess, Joel... Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Parca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi. Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... C***o! Ok, basta! 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 Oddio! Basta, Frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai che non volevo... Chi ha le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di... Grazie! Chi ha le nostre armi? Cristo... Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! E' davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a... Cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato? Non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annunarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi. E anche di più. Chi ci dice che le hai tu? Ma quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dobbiamo uscire da qui. Ora.